Buongiorno a questo video comunicato Viene fatto per completare quella che il nostro comunicato stampa riguardo alle operazioni che sono state effettuate presso il circo Orfei di Novara Questa settimana appunto il circo Orfei farà diversi spettacoli per tutta la settimana L'ultimo si concluderà domenica, sabato 9 ci sarà appunto questo presidio di protesta davanti al circo Come una delle attività che noi facciamo spesso per cercare di informare e sensibilizzare le persone a non portare i propri figli al circo In questi giorni abbiamo fatto a seguito delle segnalazioni dei sopralluoghi Le segnalazioni sono arrivate da delle persone che passando vicino al tendone dei circensi hanno udito gli schiocchi delle fruste E i versi degli animali a quanto pare sembrano delle tigri lamentarsi Due unità del movimento etico tutela animale e ambiente di Novara si sono recati appunto sul posto Io ho fatto questo video perché come comunicato li ho seguiti direttamente nelle operazioni E quindi mi espongo in prima persona a dichiarare quello che ci è successo A seguito delle prove fotografiche e video che avete visto in precedenza I fatti diciamo più eclatanti da sottolineare in questa circostanza sola di questo circo Orfei a Novara Perché poi ogni realtà in ogni città è sempre diversa e le problematiche di conseguenza diverse Comunque in questa realtà sono state riscontrate due problematiche principali La prima è che gli animali erano sottoposti al freddo e all'intemperie di questi giorni Infatti questi giorni sono stati caratterizzati anche da piovaschi e nevicate e dal freddo molto rigido In effetti come avete visto ci sono queste tigri che sono stabulate, chiuse All'interno di queste gabbie ricavate dal semirimorchio dei mezzi dei circensi A noi non sembrava minimamente che avessero la possibilità di scaldarsi Perché comunque sono animali che anche se come dicono sono nati in cattività Non sono animali che riescono a sopportare delle temperature troppo rigide Magari non moriranno ma provocano sofferenza in violazione al 5443 Che cita anche di non sottoporre l'animale ad inutili servizie e crudeltà O comportamenti che non sono nel rispetto dell'etologia di quella specie Queste tigri poi alla fine sono state liberate nell'area di sgambamento A seguito del nostro intervento che ha allertato e fatto intervenire anche i veterinari dell'ASL e i carabinieri L'altra problematica è quella della superficie dove gli animali erano nel caso specifico dei dromedari Mi parlo dei cammelli, se non ricordo bene, andate a vedere il video Giacevano appunto su un fondo che non era trattato come prevede la normativa Ovvero trattare il fondo in modo adeguato Quindi o con la sabbia o con la paglia Perché questi animali non possono stazionare sul cemento o sull'asfalto O su una superficie non idonea Sia per motivi anche termici che anche per motivi anche di stabilità dell'animale In questo caso è una specie di piastrellato Anche un po' disconnesso Quindi lasciamo perdere la parte eventuale di una scivolata di un animale Ma provoca dolore stare su una superficie sconnessa Scusate il disconnesso che ho detto prima, pensavo ad altre cose Comunque una superficie sconnessa non va bene per far stazionare questi animali Tra l'altro anche muniti non di una zampa normale ma di uno zoccolo Anzi di due unghioni per l'esattezza Così chi non lo sapesse I cammelli e dromedari non hanno né i ferri come i cavalli Né tanto meno hanno i palmi come altri animali O i cuscinetti interdigitali O plantari, chiamavoli come volete Anche a seguito della segnalazione La superficie è stata trattata con del fieno Ma noi non siamo soddisfatti di questa operazione Perché capite che non è il nostro obiettivo quello di prevenire Eventuali atteggiamenti non conformi al benessere degli animali Ma è quello di reprimerli E per reprimere significa ottenere le sanzioni o eventuali sequestri Siamo molto dispiaciuti per come vanno continuamente Troppo spesso le cose in diverse città d'Italia In alcune città ultimamente sono stati sequestrati anche degli animali E sanzionati i circensi In altre purtroppo si finisce sempre nelle omissioni d'ufficio O nel favoreggiare questi atteggiamenti illeciti Il dito a chi lo dobbiamo puntare contro Allora in primis il sindaco Che è responsabile del benessere degli animali sul proprio territorio Il sindaco ricordiamo che potrebbe anche benissimo Non far attendare uno spettacolo circense Semplicemente preferendo altri spettacoli circensi Senza animali e nelle sue facoltà Purtroppo molti non lo sanno Molti non hanno neanche interesse nel farlo O magari non se ne preoccupano minimamente Il dito va puntato anche contro le istituzioni Che dovrebbero fare quello che è il primo intervento di sopralluogo Che viene spesso fermato alla semplice valutazione delle carte Chiamiamole così, dei documenti degli animali Quindi eventuali cites e documento di trasporto Senza andare a vedere il benessere e la salute dell'animale Il benessere e la salute dell'animale da cosa si evince? I movimenti stereotipati Quindi come vengono condannate alcune famiglie circensi Per maltrattamenti di animali Gli animali vengono tolti In occasione di movimenti stereotipati Del collo, della proboscide, dell'elefante Che sono sempre gli stessi movimenti ripetuti per più volte O lo stesso ruotare intorno dei equini O di altri animali simili come i lama Comunque qualcosa si riesce a ottenere Ma anche le tigri L'andare avanti e indietro O girare su se stessi in modo ininterrotto È sintomo di stress psicologico Che arriva anche poi ad essere psicofisico Perché gli animali poi iniziano anche a avere Dei comportamenti aggressivi tra loro E addirittura si arriva all'autodelisionismo Il veterinario semplicemente ci ha risposto Che le tigri erano in gabbia Per non fargli prendere freddo E che gli altri animali Non era stato trattato ancora Il fondo Perché i circensi erano Arrivati un po' in ritardo Come tempistica Come diciamo Erano andati un po' fuori dalla tabella di marcia A noi non interessa questo A noi interessa che quando gli animali Dopo un viaggio Tra l'altro anche molto brutto Perché viaggiare continuamente Non piace a nessuno Figuriamoci degli animali che viaggiano in prigionia Arrivano sul posto Devono avere tutte le condizioni Per il loro benessere L'arricchimento ambientale Mancava perché hanno detto Che non avevano fatto in tempo Poi immaginate che questi animali Avrebbero bisogno anche solo Di dei tronchi Per farsi le unghie Sono felini Per saltare Delle palline per giocare Sono animali stressati Sottoposti continuamente A esercizi Cioè non è possibile Che i veterinari dell'ASL Continuino a coprire Queste Queste ingiustizie Il veterinario dell'ASL Il veterinario dell'ASL Per concludere Ha risposto Avete ragione Gli animali al circo Non stanno bene Gli animali al circo Si vede che soffrono E i movimenti stereotipati Purtroppo Se non c'è Un veterinario Comportamentalista Non hanno valore Il problema È che nessuno Manderà mai Un veterinario Comportamentalista Per denunciare Dei circensi Perché poi Gli animali dovrebbero Essere sequestrati Non si saprebbe Dove metterli E i circensi Continuano a far riprodurre Animali Continuando A dare origine A nuovi cuccioli Schiavi E a continuare Il loro sporco gioco Il veterinario Conclude Poi dicendo Che finché La legge Consente Ai circensi Di esibire animali E tenerli In quelle condizioni Non compatibili Con loro benessere Non si potrà fare Nulla Quindi Il messaggio È semplice Abbiamo Un messaggio Verso Lo Stato Allo Stato Che chiediamo Di dismettere Questi animali Questi schiavi Dal Dagli spettacoli Inutili Diseducativi Per i bambini E chiediamo A voi Che continuate A pagare Un biglietto E ad alimentare La schiavitù E la sofferenza Insegnate Ai vostri figli Che quel biglietto Che si va a pagare Serve per Dare da mangiare E non far morire Di fame Degli schiavi Che vengono Continuamente Abusati E sfruttati Pensateci bene Perché Chi non combatte Questa realtà Del circo Con animali Ne diventa Automaticamente Complice Concludiamo Dicendo che Verranno Come sempre Portate avanti Le manifestazioni E gli esposti Alla procura Sperando Che un giorno Un giudice Un magistrato Possa dire Adesso Adesso Questi rati Devono essere Perseguiti Perché se Un magistrato Iniziasse a pensare Un po' col cuore Un po' Con l'empatia E veramente Perseguendo Quelle che sono Le leggi Per la tutela Degli animali Gli spettacoli Con animali Verrebbero dismessi Perché la legge Verrebbe sicuramente Approvata Per favore Non andate al circo Grazie a tutti